Dolciaria Toscana, i sapori delle coccole, produzioni artigianali con ingredienti naturali nel rispetto della tradizione toscana. I prodotti della Dolciaria Toscana sono preparati utilizzando i forni a pala, garanzia di fragranza e qualità superiore. Realizziamo panini del pasticcere, morbidi e lucidati in varie forme, pane sfogliato in varie tipologie, tutto artigianale. Inoltre Dolciaria Toscana è leader nella produzione di pasticceria, in eleganti confezioni, idee regalo deliziose e di classe. Pasticcini di pasta frolla e pasta di mandorle, con solo ingredienti naturali sceltissimi. Dolciaria Toscana, via Maremana 15, Montelupo Fiorentino.